Presidente Luciano Campitelli è stato raggiunto l'accordo per la gestione dello stadio di Piano Daccio, è l'accordo che voleva? L'accordo che volevo, oggi la società meno paga è meglio è, è l'accordo che come ho detto non abbiamo un fisso troppo alto, è un fisso più basso con una variabile legata alle sponsorizzazioni che ci saranno durante l'anno, quindi questo è l'accordo fatto, giocheremo lì la domenica con la prima squadra, il settore giocherà anche lì, ci alleneremo solo con la prima squadra, quindi credo che sia logico e credo che per quest'anno, forse per due anni, fin quando non ci daranno un campo nostro dove sarà il nostro punto di riferimento, noi faremo così, poi appena datoci il campo troveremo altre soluzioni definitive e credo però che un passo importante sia stato fatto, possiamo ripartire, possiamo iniziare la campagna abbonamenti, possiamo iniziare a programmarci. Quattro anni di polemiche per la gestione, si può dire oggi né vincitori né vinti, però comunque questo accordo sarà duraturo? Io spero, lo abbiamo fatto un anno, poi si vedrà, quindi adesso dobbiamo essere tutti positivi e iniziare a pensare al calcio vero perché questa è una cosa che a me non mi interessa, io devo pensare a fare quello che faccio, faccio il presidente del Teramo e quindi per me conta solo quello. Un accordo raggiunto per la gestione dello stadio di Piano Daccio tra i due imprenditori anche con la sua mediazione, si chiede se sarà un accordo duraturo, comunque è certo che durerà un anno. Durerà un anno ma io credo che sarà un accordo duraturo perché anche le condizioni previste nell'accordo permettono all'accordo stesso di durare nel tempo perché insomma ci sono dei presupposti anche di carattere economico secondo me giusti. Dall'altra parte Sabatino Cantadale avrà la sua tranquillità anche economica perché comunque ha investito delle risorse e quindi è giusto che sia così. Poi la notizia che nel giro di dieci giorni sarà bandito il concorso di idee per il nuovo nome, lo stadio di Piano Daccio. Sì, questa iniziativa è venuta durante la conferenza stampa, se ne era già parlato a dire il vero, quindi però noi il Comune di Teramo farà un bando nel giro di decine di giorni e saranno i cittadini di Teramania a decidere il nome dello stadio.